54, 33 e 89 Si! Può! Fare! Questo programma è offerto da Da Antonio e Sabrina In via di Corticella 31 a Bologna Locale piccolo ed accogliente Professionalità garantita Telefono 051 36 29 27 Aperto dal martedì al sabato Orario continuato Dalle 9 alle 19 anche per appuntamento Parrucchieri Antonio e Sabrina In via di Corticella 31 a Bologna Dal martedì al sabato Orario continuato Dalle 9 alle 19 anche per appuntamento Telefono 051 36 29 27 Eccoci qui anche oggi Con un consueto appuntamento Con qui diamo i numeri Anche oggi tre numeri fortunati per voi Partiamo subito forte con il primo numero Il 13 ovvero Le risultate che farò domenica Per la schedina dei dilettanti Per vincere la felpa 0-1 Offerto ovviamente da Marco Lacci Il 5 che è stato Il giorno della prima ubriacatura Assieme ai ragazzi di qui Bologna Maledetti quando li ho conosciuti E il 19 che è il numero dell'audus Che mi accompagna tuttora E che mi accompagna dall'infanzia Fino al giorno a venire Grazie anche per questo appuntamento E ci vediamo domani Sempre con i tre numeri fortunati Corretto a giocare subito Sperando non nevichi A domani Ciao Si può fare Sperando non nevichi Sperando non nevichi